Dopo la firma per la concessione avvenuta a Roma al Ministero dell'Infrastrutture, firma congiunta del Direttore Generale dell'Ente Nazionale delle Aviazioni Civili e il Presidente della Società Salerno Costa D'Amalfi, ieri è stata posta una pietra a Milare per arrivare finalmente ad un definitivo decollo dello scalo, ovvero la firma del decreto interministeriale da parte del Ministro Danilo Toninelli, un atto che, come riportato da una nota stampa diramata dal Ministero, conferma l'impegno del Ministro a dare risposte per il potenziamento delle infrastrutture campane relativamente al rilancio del comparto aereo e degli aeroporti come volano di sviluppo di interi territori. Nello comunicato ufficiale si legge che l'approvazione del decreto interministeriale arriva nella stessa settimana in cui l'Enac e la Società Aeroporto di Salerno hanno sottoscritto l'atto adottivo alla Convenzione del 22 febbraio 2013. Se tutto filasse rapidamente il decreto potrebbe essere emesso nei prossimi giorni e così 15 anni dopo la posa della prima pietra, il secondo scalo della campagna potrebbe finalmente diventare realtà. Sono intanto pronti da mesi gli oltre 100 milioni che Gessac vuole investire a Ponte Cagnano che si aggiungono ad altri impegni di spesa per centinaia di milioni già firmati dalle regioni Campania e Basilicata, dalla Camera di Commercio ai Comuni di Salerno, Bellizzi, Ponte Cagnano e Monte Corvino. Tra fondi pubblici e privati sono fermi 500 milioni di euro circa che dovranno servire anche per realizzare sottoservizi oltre le opere vere e proprie come ad esempio l'allungamento della pista che interesseranno lo scalo.